un saluto a tutti signori e come sempre anche oggi benvenuti o bentornati ovviamente qua sempre sul canale homo tenace anime in compagnia di simone e di una nuova action figure l'action figure in questione non è mia quindi la sponsorship di oggi è di luca o brunga 77 amico che ormai conoscete uno di voi della crew di omotenashi anime di voi follower e me la portata perché è arrivata veramente da poco ne parliamo subito oggi cominciamo a dare un nome a questa bellezza abbiamo anche la scatola qua davanti sperando che si possa vedere alice kisaragi scala 1 a 7 della kadokawa anime sentuin akishimasu anime di 2 barra 3 forse ormai tre stagioni fa l'abbiamo commentato ne abbiamo parlato su quelle che sono le live che tengo la domenica sera diamo intanto due notizie veloci veloci così poi accantoniamo la scatola cubatura interessante di circa 21 per 21 per 30 centimetri ripeto brand kadokawa di questa qua poi avrete come sempre la visione a 360 gradi verso la fine e poi arriviamo all'oggetto del contendere che vedrete qua davanti che è una gran bella action figure sulla quale possiamo spendere due parole ma ovviamente non prima della canonica call to action di ogni youtuber che conoscete a memoria ragazzi iscrivetevi like condivete social attivate la campanella per restare sempre sincronizzati su ogni mia uscita e parlando di costei ovviamente avrete come sempre le slide le foto di dettaglio devo dire che è una bella action figure ha ormai il trend come molte altre di dover uscire in tempi non sospetti e poi è stata rimandata ma finalmente è alla vostra visione ma nelle mani di luca ha un paio di particolarità che vorrei portare alla vostra attenzione la prima abbiamo litigato poi non più di tanto a questione di un 30 secondi però il perno del piede un perno in ferro abbastanza generoso non va imperneata perfettamente dritta ma deve essere inclinata questo perché il perno deve essere sia solidale che parallelo alla posa della gamba la gamba vedete che non è perfettamente dritta quindi attenzione a pensare di impernearlo dritto ma dovete tenerla leggermente inclinata action figure di per sé stabile fatta molto bene ovviamente a questi livelli abbiamo guardato in tutti i modi non ci sono linee di fusione buona colorazione dei capelli con la parte sommitale ovviamente un po più chiara e poi delle ombre che vanno a scendere qua lungo le spalle vestito bianco anch'esso un bianco ottico virginale fatto molto bene nulla di trascendentale carino il fatto che ci siano delle sfumature o in questa cosa qua delle ombre delle ombreggiature fatte con un rosa un po più scuro dell'incarnato lo si può vedere credo poi di avervi fatto anche una foto dettaglio anche sulla pianta del piede che sta esattamente qua dietro ora con questa luce falsa che è quella che viene data dalle luci led ovviamente per poter illuminare che tra l'altro mi stanno completamente bruciando la retina ma a parte questo qui vedrete queste sfumature molto interessanti anche perché andare a fare una sfumatura su una zona che poi in realtà non si vedrà mai su una pianta del piede ecco sicuramente è simbolo e sintomo di qualità l'altra cosa interessante visto che non ha decine di orpelli ma solamente un ferma capelli che vedete qua sopra che è il suo classico è il fatto che impugni questo fucile e nella confezione credo per la prima volta di sicuro che ho visto io ma credo anche luca è stato messo un classico sostegno avete presenti tipo quello che vedete ora sto cercando di vedere alle mie spalle ma voi non lo vedete sarebbe di qua ma non si vede proprio dietro di me in questo caso tiro giù il braccio meteora osterice eccola qua i supporti di questo tipo supporti in ferro anche abbastanza generosi per tenere sul fucile non serve assolutamente a niente perché il fucile esageriamo ma vogliamo veramente esagerare peserà 3 grammi probabilmente non credo arrivi a 4 è lungo si fa una certa leva ma come vedete prosegue dalla mano e non c'è uno sforzo cioè non stiamo parlando di un action figure che poggia tutto il suo peso stiamo parlando di ma ripeto ho esagerato dire forse 3 grammi poi magari mi tiro via anche lo scrupolo proverò a pesarlo col bilancino da cucina non serve a niente quindi qui hanno messo dentro e ripeto non se ne capisce un motivo un oggetto del tutto inutile in ferro neanche trasparente in plexiglass quindi proprio che si vede per reggere quello che è il fucile e la mano non serve assolutissimamente a niente quindi uno spreco completamente inutile non riesco a capacitarmi di come il maker abbia fatto qualcosa di simile perché ragazzi non è un isa cataiga che aveva la gonna da tenere su non è meteora non sono action figure o la nemica di meteora che ha dei pezzi attorno molto pesanti non c'è niente e sorreggere questo non serve assolutamente a niente quindi è vero che sarà costato centinaia di yen però moltiplicato su larga scala mettere dentro un pezzo che è assolutamente inutile non riesco a capacitarmene quindi questa volta abbiamo un supporto che non serve praticamente a niente prima volta che capita per il resto la figura è perfetta io mentre sto parlando con voi avrete visto le foto di dettaglio e adesso vi aspetterà come sempre quella che è la fotografia il girato 360 gradi dalla regia che in questo momento si trova di là della videocamera e voi non vedete ossia il proprietario dell'action figure mi ricorda di ricordarvi che tra l'altro la signorina in questione arriva lo giriamo di qua magari fornita con due visi che tra le altre cose di primo acchito sembrano praticamente uguali cambia di pochissimo ma veramente di poco la linea delle sopracciglia che la fa sembrare sono un po più un viso serioso fra virgolette non dico arcigno ma serioso rispetto a quello base ammetto che finché non le abbiamo avute davanti tirate fuori dalla scatola tirate via edulcorate dal plexigas sembravano esattamente uguali c'è voluto veramente un po' di sforzo per vedere la differenza non è che salta direttamente all'occhio però se vi può piacere come sempre tirate via il pezzo davanti del viso lo cambiate e poi rimettete sui capelli con molta molta attenzione perché i capelli qua davanti vedete che hanno 123 ciuffi di cui quello sopra molto delicato e un altro paio qua sopra quindi attenzione a maneggiarla con le mani da gorilla perché altrimenti questi vi restano in mano e a quel punto il secondo viso sarà l'ultimo dei vostri problemi io vi ringrazio per avermi seguito la colture che ormai la sapete e ringrazio ovviamente il proprietario luca che ha avuto la pazienza di portarvi qua l'action figure l'abbiamo de unboxata de inscatolata assieme adesso con molta calma la ritireremo e poi poco per volta prometto entro il prossimo semestre anche perché ormai ho una quantità di video infinita uscirà anche questo così lo potete vedere grazie per avermi seguito state qua per la visione a 360 gradi e come sempre un saluto da simone di omotenash anime jane bye bye ciao 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 ciao